Non è un difetto, è una realtà esistente in quel momento. Abbiamo avuto anche contatti con un'altra banca, sempre del mondo intero per erino, la BCC di Roma. Alla fine di tutto questo iter che abbiamo vissuto molto intensamente, per il quale siamo stati molto attivi, bisogna arrivare alla scelta. E il Consiglio d'amministrazione si è riflettuto. Allora, scelte personali a me piacerebbe non portare, portare solo il voto del Consiglio nel suo complesso. E il Consiglio ha detto, BCC di Palestina è più grande di noi, è 20 volte più grande di noi, noi abbiamo 6 milioni, qui c'erano 110 circa, poi c'è Fiungi, è una bella banca, perché siamo presenti parecchi sportelli, quanti sono, direttori? Arriveremo in totale a circa 40. 40 sportelli. A 110 arriveremo a 130-140 milioni di patrimoni. è piccola, 140 ma è piccola, perché c'è la possibilità di continuare a perseguire la politica che noi abbiamo sempre perseguito e che abbiamo creduto, cioè il contatto col territorio e mantenere questa banca a dimensioni umane, che abbiamo, non quelle varie a macchina, se dicini e te ne vai. E questo è il voto. Poi ci sono altri aspetti. Lo leggo poi nella letta. A questo punto devono essere tra tutti i nostri dipendenti. Sono tutti dentro, guardate, nessuno è fuori. Fra Scadi, io ho chiesto che sia sede secondaria. Abbiamo fatto tante richieste, poi già quando si tratta, che è di 10, da me, però loro lavoravano capo zona, cavuaria, si dice di cavuaria, e che significa mantenere la struttura, mantengono il personale. Se mi sfogge qualcosa lo leggo qua. E poi è in programma, è quello che è stato il mio primo incontro, che non mi piace, è tenere a un gruppo, si chiama Palestina e Fra Scadi, che è BCC di Palestina. Loro sono disponibili a rivedere, nell'ambito di queste fusioni, il nome della banca, che dovrebbe essere, inizialmente pensavamo a BCC Lazio Sud, adesso loro deciderono BCC Centro Lazio, qualcosa del genere, però è in corso di sale. Avremmo una banca, che importa più il nome del paesello, ma la banca, oltre sovracomunale, quindi con una design, è più carina, e c'è la disponibilità. BCC di Roma, BCC di Roma c'ha, quanto c'ha adesso? 250 sportelli? 160. 200. Fra Scadi diventa uno sportello di 200. Cioè, non è che c'è la nostra rappresentanza in quel consiglio d'amministrazione, noi diventiamo uno sportello, uno dei 200. Se farà un comitato soci qua, però, oddio, addirideremo a un comitato soci che dovrà lavorare in zona, però è finice, è finice, siamo in PCC di Roma, insomma, è importante, è ovvio che è una banca grande, è una banca ben strutturata, forse offre pure più servizi al socio, di quanto possa dare l'altra ricorda, che vuole dire io, però ci hanno detto subito, Fra Scadi per noi non è capo zona, perché noi abbiamo Laghetto, che lavora, voi lavorate 60, mi fate 60, 50, milioni, 53 milioni a ricorda, Laghetto mi pare di 180, così c'è una del 180, per noi è quella, e quindi Fra Scadi perde importanza, e la sede è grande, 150 metri, è più che sufficiente, insomma, diventiamo una delle 200 circa filiali di PCC di Roma, si è optato per l'accordo con Palestina, però siccome hanno questa problematica, questa dialettica interna, che dice, dialettica interna a Palestina, che dialogano molto, io mi ho detto, stregnevo, perché qua, io voglio andare in assemblea, e portare i voti di Roma, ieri sera, ieri si è riunito appositamente il loro consiglio, un saluto straordinario, per deliberare, e il consigliere Raggi, il vicepresidente Raggi, insieme a Fabrizio Enzo, hanno concluso le trattative con questi signori, per delega del consiglio, e quindi loro, ci dicono, 20 maggio, al consiglio di amministrazione, banca di Prascati, il consiglio di amministrazione, viene informato adesso, abbiamo legato da ieri sera, e i nostri dipendenti, a quali avevo promesso, di avvertirli, appena c'era qualche novità, lo vengono a sapere, insieme a tutti i guadagnoli, con riferimento, oggetti, ipotesi di acquisizione, delle vostre attività, e possibilità, però, la faccia, non fa un pazzo indietro, il Cicidroma, ci disse, nell'ambito adattativa, non ce fa di convocare, un'altra assemblea, noi, l'assemblea per noi, sono 35 mila soci, e convocare l'assemblea, è un lavoro impropo, a noi ci impegna da morire, e ci costa, hanno detto una cifra, 800 mila euro, convocare l'assemblea, per cui, se continuiamo a discutere, noi ci compriamo, l'azienda, voi rimborsate ai soci il capitale, e i soci li diventano soci, nostri, tra parentesi, c'è anche una certa convenienza, con Palestina, si è sempre parlato di fusione, siamo d'accordo su tutto, non siamo d'accordo su un aspetto, non noi non siamo, loro, non sono d'accordo, non solo, che per me è fondamentale, e su un quale mi sono sempre opposto, loro hanno, quota capitale, 2 euro, 1,58, i vecchi 5 mila euro, 5 mila euro, quindi hanno soci che hanno versato, 2,58, la media dei nostri soci è 8 mila euro, chi diventa socio oggi a Palestina, versa 500 euro, 2,58 di capitale, 497, 497 virgola di sovrapprezzo, quindi se diventa socio con 500 euro, loro ripensano, in teoria, pensano bene, che i nostri soci, che sono in questo momento hanno 6 milioni e mezzo, facciamo 6 milioni di capitale, facendo tutte le quote da 500, vendendosene in giro a 500, a 500, perché noi abbiamo deliberato, anche per facilitare la fusione, abbiamo anche deliberato addirittura i 5 mila, 500 euro, vendendosi le quote a 500 euro sul mercato, trovando nuovi soci, i 16 milioni di capitale, danno luogo a 12 mila soci, noi siamo 3 mila, 3 mila e 5, dicono, voi 12 mila potete diventare, diventate i padroni della base, in teoria è così, in pratica realizzabile, come si fa a farlo, se siamo in idea, 12 mila soci, comunque per loro è irrinunciabile, io sono stato anche personalmente, chiesto di essere ricevuto, e sono stato ricevuto, ho esposto il problema al direttore, di Banca Italia, numero 1 per Lazio, che ha ritenuto questa richiesta ridicola, adoperato non un termine ridicolo, è impossibile, non ha senso, però non sono riuscito a superare, loro hanno questa preoccupazione, per cui hanno ipotizzato l'ipotesi BCC di Roma, ci compriamo l'azienda, noi poi, dopo siamo una cooperativa che non si è accita più la domenica bancaria, andiamo in liquidazione, rimborsiamo ai nostri soci il capitale, se in quanto ci siano i soldi, poi ne parliamo, rimborsiamo il capitale ai soci, con l'impegno morale nostro, soprattutto del Consiglio di Amministrazione, a ridiventare soci della nuova banca, ora, se la media dei nostri soci è 8.000 euro, chi ha messo 5, chi ha messo 15, chi ha messo 10 all'inizio, si ripiglia ai suoi 5, 10 o 15, ci sono anche soci da 50.000, e c'è un socio che ha messo 340.000 euro, divisi fra tutte le persone della famiglia, si ripigliano i soldi e se li diventa soci della nuova banca, che come si chiamerà BCC Lazio Sud, non lo so, BCC Centro Lazio, con 500 euro. Questo è l'ipotesi oggi praticabile, e che ha deliberato Palestina. Con riferimento all'oggetto, risposta alla vostra media, il 17 maggio, siamo a comunicare gli intendimenti nel nostro Consiglio di Amministrazione, espressi nella seduta il 19 maggio, che di semplice riportano. La nostra banca, nell'esprimere la volontà di procedere all'acquisizione delle vostre attività e passività, si rende disponibile, primo, al riconoscimento di un avviamento quantificabile in 2.100.000, subordinandolo ad una curata di udificias, all'acquisizione e allo sviluppo dell'area di Frascati, mantenendo gli spazi del filiale attualmente in uso, preve a revisione del canone di vocazione, terzo, al mantenimento del personale attualmente in forza alla vostra banca, previo e approfondito esame delle singole posizioni lavorative, quattro, alla modifica della propria denominazione, questo è quello. Adesso inizierà, noi risponderemo lunedì al Consiglio di Amministrazione, risponderemo che era la nostra proposta, che è stata accolta, e risponderemo che si vada avanti. se è possibile da martedì inizi la più diligenza, la quale più diligenza significa per chi non è per il mestiere, venire a vedere i fatti vuoi dall'interno, qual è la realtà, non quello che mi dici, ma quello che è la realtà a sé. Nel fare una più diligenza alla banca, quello che conta è una cosa sola, almeno il 99%, l'analisi del credito. Siccome noi, è uscita l'ispezione del Banco Italia da pochissimi giorni, e tutto quello che Banco Italia ha detto, noi abbiamo, ovviamente obbedendo come scolaretti fatto, quello che vengono a vedere è quello che ha visto Banco Italia, cioè è perfetta la situazione. Perché 2 milioni e 100 di avviamento? Quella è stata una mia personale battaglia su tutti i frutti, che ho condiviso al Consiglio di Amministrazione e che Raggi ha prevalentemente portato a termine, siccome noi abbiamo accumulato 2 milioni di perdite nel bilancio, perdite che scaturiscono da accantonamenti per smalutazioni crediti, non per perdite subiti, e che quindi rispetto a quello che Banco Italia ci ha fatto accantonare, noi stiamo già incassando più di quello che è stato accantonato, quindi quei perdite in realtà si ridurranno, ma a prescindere di quello, oggi è scritto 2 milioni, noi abbiamo chiesto 2 milioni e 100, perché 2 milioni e 100 ci consentiranno di rimborsare integralmente il capitato di città. Questo è lo scopo. Quindi, che cosa accadrà? Se l'Assemblea poi voterà, perché dobbiamo votare in Assemblea straordinaria per questa operazione, prima adesso facciamo le due dirigenze, e poi faremo un contratto, un accordo subordinato alle approvazioni dell'Assemblea, penso anche loro, andranno in Assemblea, un argine straordinario. Se l'Assemblea la vota, come penso, che la voterà, perché poi se no, che facciamo? Facciamo quell'ordine ai Banchi Italia? Cioè, io ci faccio una sciordina, o no? A me sembra ottima come soluzione. se la voteremo, come mi auguro, noi ci sarà un giorno, un giorno X, in cui la contabilità di BCC di Trascati diventa BCC palestrina, BCC quello che sarà. Diciamo palestrina. Ma il cliente, non è che c'ha niente, il conto corrente di Ennio, rimane il conto corrente di Ennio, Ennio quel giorno fa l'operazione, non sa niente, non si accorse di nulla, formalmente. Dopo qualche tempo ci sarà un nuovo insegno, invece è BCC di Trascati, BCC di Lazio. Questo è il posto. Il personale è tutto riassunto, l'impegno è personale, è ovvio che nell'ambito di questa struttura non tutti, penso, lavoreranno presso Vaselli, magari uno serve in direzione generale, uno viene destinato a dirigere la figlia dell'Avo, questo è chiaro, ma questo è il personale, lo sa, che con chiunque saremmo andati, qualunque cosa che faccia, ci può essere un movimento interno. L'importante è che il nostro personale non si provi di sottopare domani mattina, questa era la preoccupazione che veniva. E questa è l'Italia. Scusatemi, ma dovevo essere un po'... Scusa Presidente, vorrei aprire la discussione alla fine, però se è breve, faccio. Scusa Presidente, parlava del discorso dell'ambiamento di due milioni e cento, che evidentemente hanno sommato i mezzi proprio attuali per arrivare a capitale. Scusi? Non ho sentito. Dicevo, ma ai mezzi proprio attuali? Sì, noi praticamente abbiamo un capitale nominale di sei milioni e mezzo che, per tutte le perdite che risultano dal bilancio di oggi, si deduce a rotondo a quattro e mezzo. Con l'avviamento che ci danno di due cento, noi andiamo a sei e cento. Quindi, i cento c'ho messo io, cioè ho chiesto, io veramente ho chiesto due o tre. Perché ho chiesto un po' di più? Perché dopo dobbiamo liquidare la cooperativa, è il lavorone grossa, ci vorrà un ufficetto, una piccola sede, ho chiesto se mi lascio una stanza per risparmiare i soldi. Ho chiesto pure se la nostra segretaria Caria, che ha sempre gestito i rapporti con i soci, dovrà continuare a gestirli perché è solo lei che conosce tutti gli 800 soldi, stato stanno, i telefoni, eccetera. Quindi ci saranno dei costi nella fase di liquidazione. ho darsi un ufficio un po' se ci chiede qualcosa e ho previsto 100.000 euro. Secondo me dovrebbero essere più che sufficienti i 100.000 euro. Non potrebbero, non so, ma altro. E se non fossero sufficienti che il sede di liquidazione si spenda 200.000 euro e non si può più restituire poi il 100% del capitale si restituirà il 97% di quelle di liquidazione. Questo è... Così è comunque ecco questa cosa. Perciò, permettete, voi fate i vostri interventi alla fine.